Il 26 settembre il Consiglio di Stato sarà chiamato a esprimersi definitivamente sulla legittimità del vincolo paesaggistico posto dal Ministero dei Beni Culturali su 2.000 ettari di campagna romana tra i comuni di Pomezia e Ardea. Lo scorso anno fu il Tar del Lazio a riconoscere la validità di questo provvedimento, si legge in una nota dell'Associazione Lazium Vetus. Si tratta di uno stop ad attività speculative impattanti come il trattamento dei rifiuti e la realizzazione di capannoni industriali. Anche in questa occasione siamo sempre dalla stessa parte e insieme ai comitati Santa Palomba, via Monachelle, all'Associazione Tirrenum e ai cittadini vogliamo difendere l'ambiente nel quale viviamo. Il 26 settembre insieme ai nostri avvocati saremo al Consiglio di Stato, abbiamo però bisogno dell'aiuto di tutti per sostenere le spese legali, i costi sono ingenti, termina l'Associazione. Lazium Vetus infatti ha organizzato una raccolta fondi, i banchetti saranno posizionati il 7 e il 14 settembre dalla 10.30 alle 13 in Piazza Indipendenza e il 21 in Viale Danimarca.